Mi piace iniziare con Gesù in croce che si rivolge a uno dei suoi compagni di sventura e gli assicura oggi sarai con me in paradiso. Gesù non fa un conteggio dei suoi peccati né della loro gravità. Adesso quell'uomo soffre e questo sembra bastare a Gesù. Poi Gesù va oltre e mentre i potenti capi del tempio lo deridono trionfanti lui chiede al padre di perdonarli e addirittura di scusarli perché non sanno quello che fanno. Capite che sono a confronto due modi opposti di intendere la grandezza umana. Ognuno di noi è chiamato a decidere come vuole vivere. Poi ci sono tanti possibili esempi. Ne faccio qualcuno. Gemma Calabresi, vedova del commissario noto. Si chiede perché Gesù non ha perdonato lui i suoi assassini ma dice padre perdonali tu. Forse perché sapeva quanto per noi è difficile perdonare nel momento del dolore, del tradimento. Dio padre fallo tu per noi. A noi lascia il tempo del cammino. Un altro esempio, Mahometto. Forse vi sorprende ma Gesù deve aver colpito fortemente persino Mahometto se nelle sue definizioni di Dio Allah lui lo invoca soprattutto come il misericordioso. Per i musulmani ogni volta che nominano Allah sempre lo qualificano come il misericordioso. Manzoni. Quando Renzo arriva al lazzaretto per cercare Lucia dice a Fra Cristoforo se non la trovo io farò giustizia contro Don Rodrigo. Lo dico con le mie parole. E Fra Cristoforo guardati attorno sciagurato, guarda il dolore e tu pensi alla vendetta. Forse la tua salvezza e la sua dipendono ora da te, dal tuo perdono, dalla tua compassione. Renzo che aveva fatto un cammino di maturazione ammette ho parlato da bestia non da cristiano. E quando incontra Don Rodrigo morente prega per lui. Infine vorrei ricordare l'esempio dei parenti delle infinite vittime delle guerre. Moltissime di queste persone sentono di non poter vivere odiando per sempre gli assassini dei loro cari. E molte si uniscono in organizzazioni. Mi riferisco ad esempio al Medio Oriente e in Israele c'è Neve Shalom fondata da Bruno Hussar che raccolgono l'adesione di ebrei e musulmani tutti con parenti uccisi dalle parti nemiche. Ebrei e musulmani insieme in una organizzazione fondata da un cattolico.